Signori buongiorno e bentornati in un nuovo video Oggi 1 gennaio 2024 Volevo solamente augurarvi buon anno E niente darvi un piccolo spoiler Con questi due blocchi sopra di me Di un prossimo episodio Della serie hardcore che stiamo portando In questi giorni Non vi rubo altro tempo Vi auguro una buona giornata E noi ci vediamo mercoledì